I controlli relativi all'applicazione delle misure di contenimento anti-covid-19 per il dispositivo di sicurezza che ha visto coinvolti diversi corpi di polizia hanno portato risultati complessivamente positivi nello scorso fine settimana, compresi i giorni del 1 e 2 giugno. Sono state controllate 2.239 persone e contestate 41 violazioni. Nello stesso periodo sono stati controllati anche 606 esercizi commerciali senza però rilevare illeciti. Con quelli di ieri, dall'inizio dell'emergenza i controlli sugli spostamenti hanno raggiunto complessivamente il ragguardevole numero di 81.000 controlli con 1.985 contestazioni di violazione, mentre per gli esercizi commerciali il numero totale dei controlli ha raggiunto quota 32.000. L'adozione di ordinanze da parte dei sindaci dei comuni costieri che hanno imposto nelle aree dei rispettivi centri abitati interessati dal fenomeno della Movida, l'uso delle mascherine ha certamente agevolato il compito delle forze di polizia sia in chiave di prevenzione che ai fini della contestazione di eventuali violazioni. Nelle norme di comportamento, ha commentato il prefetto la polla che sottolinea come il senso di responsabilità dei cittadini è il primo strumento di prevenzione attraverso il quale è possibile scongiurare sia l'adozione di provvedimenti di divieto e anche di limitazioni più restrittive che potrebbero così andare a incidere negativamente sulla piena vivibilità delle zone e delle aree di ritrovo delle nostre città.